Un 25enne tunisino residente a Santa Croce e Camerina è stato fermato oggi a Palermo nei presti alla stazione ferroviaria dai carabinieri dopo che i colleghi di Ragusa lo avevano inseguito per mezza Sicilia. Il giovane nordafricano, arrivato clandestinamente in Italia e domiciliato nel piccolo centro Ibleo presso l'abitazione del fratello, poco prima di mezzanotte, per motivi ancora ignoti ma probabilmente legati al troppo alcol consumato, ha accoltellato mortalmente un connazionale suo coetaneo, braccato quindi dai militari dell'arma che immediatamente si sono messe sulle sue tracce, il giovane nordafricano è riuscito rocambolescamente a salire su un pulmal per Palermo con alcune ore di vantaggio sui carabinieri del comando provinciale i quali a questo punto per recuperare il distacco hanno chiamato i colleghi palermitani i quali sono intervenuti e hanno bloccato l'accoltellatore alla stazione centrale. Il connazionale ferito avendo riportato intanto un profondo taglio al polmone è stato operato d'urgenza dai medici dell'ospedale di Vittoria ma successivamente è stato trasportato in lì soccorso all'ospedale Papardo di Messina dove è tuttora ricoverata in prognosi riservata verso un reparto specializzato in chirurgia toracica.